Una mostra collettiva nella suggestiva cornice del castello di Andrazza. Gli spazi espositivi ospiteranno le opere di Squadra Cobra, che con dolomiti contemporanei saliranno in territorio Fodom e attrezzeranno il castello con una serie di opere installative, reazioni sonore e interventi disseminativi. Qui al castello di Andrazza stiamo aspettando l'inaugurazione della prossima mostra di Dolomiti Contemporane che avverrà sabato 29 luglio alle ore 17. Vi aspettiamo tutti un castello a Auroloseria, un nuovo ciclo di Krebs con Dolomiti Contemporane e la Squadra Cobra. Dolomiti Contemporane opera nel territorio dolomitico dal 2011, individuando grandi ed eccezionali siti risorsa con l'intento di dare impulso alla loro valorizzazione, rigenerazione e trasformazione attraverso le tecniche e gli strumenti della cultura e dell'arte contemporanea. Dolomiti Contemporane torna al castello di Andrazza dopo dieci anni. La prima mostra che portavamo qui fu nel 2013 e un'oselliera non vi è. Ora veniamo con Castello Aurologeria. La mostra si fa insieme a Squadra Cobra, un gruppo di dieci artisti polonesi che insieme a noi riesplorano il castello e così bene si presta all'interazione con l'arte contemporanea. La mostra porta un titolo che ha a che fare con un'idea di meccanizzazione intelligente, di produzione di contributi culturali e quindi determinati dall'uomo, se non un ambiente naturale e una straordinaria fortezza che in parte è naturale, mezzo provante glaciale, in parte è costruita. La costruzione e la formazione dei contenuti è al centro della nostra azione artistica e culturale.